Allora Emanuele, oggi facciamo un'altra trasformazione. Sei pronto? Oggi ci trasformiamo in palloncini. Questo è un palloncino gonfio o è sgonfio? È grande. È grande? Sì. Questo è un palloncino sgonfio. Non c'ha dentro l'aria? C'ho soffiato dentro? Sì. No. C'è l'aria dentro? No. No. È sgonfio. Quando ci soffiamo dentro che il palloncino diventa grande, si gonfia. Il palloncino Emanuele è sgonfio. Ci trasformiamo in palloncini anche noi? Sì. Guarda che cosa fa il palloncino, eh? Quando io lo gonfio. È gonfio? È gonfio? Se io lo lascio, che succede? Mamma, lascia. Ascolta, ascolta. Ascolta. Sì, è sgonfio. Sì, è sgonfio. Sì. Lo gonfio? Sì, deve fallire un nodo. Deve fallire un nodo. Ma guarda un po' che succede. Adesso mamma lo lascia di nuovo, eh? Ha sputato fuori tutta l'aria che ci avevo messo dentro. E guarda adesso che magia, eh? Guarda, eh? Lo lascio? Sì. Che succede, se io lo lascio? Si sgonfia. Si sgonfia? Dove è andato? Lì, da papà. È andato in giro. È andato a papà. È andato in giro. E da papà è andato. Ancora? Sì. Lo lascio? Sì, è la terra per terra. Lo lascio per terra? Adesso facciamo una magia. Ci trasformiamo in palloncini sgonfi. Giù, giù. Palloncini sgonfi. Giù, 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 giù. Il palloncino gonfia una gamba. Si gonfia, si gonfia, si gonfia, si gonfia, si gonfia, si gonfia. E poi si sgonfia giù. Gonfiamo l'altra. Gonfia una gamba, una gamba, una gamba, una gamba, una gamba. e poi si sgonfia giù e adesso gonfia un braccio gonfia un braccio gonfia l'altro braccio gonfia le gambe il palloncino è enorme e va da una parte all'altra da una parte all'altra lo sgonfiamo? adesso il palloncino si gonfia e vuole diventare grande, grande, grande lo facciamo diventare grande? sì palloncino sgonfio sgonfio giù giù, giù, giù sei pronto? è enorme mamma lo facciamo diventare enorme? pronto? è enorme via si gonfia 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 ma sono i punti di piedi amamore si gonfia gonfia anche le guance e si sgonfia sconfiamo sconfiamo ancora li gonfiamo? devo fare un nodo vuoi fare un nodo? dei panni allora guarda un po' eccolo qua noi ci siamo trasformati come questo palloncino anche questo rifacciamolo di nuovo con il nostro corpo prima palloncino sgonfia sgonfio sei pronto? e si gonfia 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 le pance e si sgonfia e vola è che veloce adesso Emanuele io ho una canzone che fa gonfiare e sgonfiare i palloncini la facciamo? si molto bene io ti ricordo che il palloncino quando si sgonfia può far uscire tutta l'aria che prima era entrata ci proviamo insieme? dai palloncini sgonfi facciamo una danza di questi palloncini divino giu si ci scuha si scuha no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.